Con l'allestimento Sport, Fiat 500X affina il suo carattere dinamico e lo si nota subito che è diversa dalle altre. Il nuovo paraurti con le prese d'aria incorniciate la rende più cattiva. L'impronta a terra cambia per effetto dei grandi cerchi da 19 pollici, gommati con pneumatici ad alte prestazioni e per l'assetto sportivo che diminuisce la distanza dall'asfalto. I tecnici Fiat hanno infatti migliorato le performance su strada, affinando lo sterzo ad esso ancora più diretto e con una nuova taratura delle sospensioni che dà il meglio sui tratti tortuosi. Questo allestimento è disponibile su tutte le motorizzazioni, ma si sposa al meglio con il 1.3 Firefly da 150 cavalli. Il turbo benzina di ultima generazione in grado di garantire un notevole brio. Aggressiva anche l'offerta economica. 500X Sport con motore 1000 da 120 cavalli è disponibile per tutto ottobre al prezzo lancio di 21.400 euro.